Per il consumatore orientarsi nell'acquisto di fuochi e botti che rientrino nell'ordinanza non è sempre semplicissimo. Si può consultare il sito del Comune nel quale è presente e consultabile il testo in questione. Quest'anno però il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare il 10 di dicembre che solleva dubbi sulla legittimità delle ordinanze emanate dai sindaci in maniera urgente. La prefettura di Pesaro Urbino sulla base della circolare e delle recenti riclassificazioni del materiale pirotecnico ha dato disposizione ai sindaci di astenersi dalle emanare ordinanze che vietino l'utilizzo generalizzato di ogni specie di fuochi d'artificio consentendo invece l'uso di quelli a rischio potenziale basso di pericolosità e rumorosità di libera vendita al minuto. Volendo quindi orientarsi negli acquisti bisogna sempre affidarsi a rivenditori affidabili e conosciuti. Si certo i botti devono essere rientrare nella normativa e a Fano come tutti i paesi i botti sono di libera vendita quelli che si usano e normalmente quelli che non fanno rumore per problemi per i cani e persone che ne dà fastidio. Che sono quelli di facile utilizzo? Si diciamo quelli che non sono pericolosi tipo i scintillini pop pop che si possono usare e utilizzare anche all'interno della propria casa. Se poi nel nostro privato vogliamo concederci il gusto di un fine danno pirotecnico ma sempre in sicurezza compriamo prodotti a norma certificati e di chi ha l'autorizzazione a farlo. I fuochi devono essere certificati e sicuri e di conseguenza bisogna rivolgersi in un punto vendita dove è autorizzato altrimenti si va a rischiare di incomberli in un fuoco pericoloso e quindi di conseguenza rischioso per chi li adopera. Questi sono tutti riclassificati? Questi sono tutti praticamente classificati fuochi sicuri e certificati soprattutto.